buongiorno a tutti oggi venerdì 18 dicembre vorrei presentarvi il libro di jacob vegelius la scimmia dell'assassino pubblicato da iperborea per gli umani tutte le scimmie sono uguali ma selly jones è decisamente una gorilla straordinaria ha passato la sua vita vivendo con diversi esseri umani ha imparato a capire come pensano a leggere a scrivere a riparare oggetti di qualsiasi fattura e anche a giocare a scacchi selly jones fa la macchinista sulla nave di coschela un marinaio che lei affettosamente chiama capo fino a quando un terribile giorno per un malinteso coschela viene accusato di omicidio e viene rinchiuso in carcere selly jones farà di tutto per salvare il suo amico arrivando in india nel palazzo del marajà anzo d'avventura da leggere tutto d'un fiato